Siamo con voi, continuiamo il percorso. Abbiamo iniziato da lontano, insieme, indirettamente o indirettamente, è fondamentale per dare questo segnale di speranza di cui abbiamo bisogno come città, abbiamo bisogno come il paese. Il teatro è cultura, il teatro ha questa caratteristica che è veramente aperta a tutti. Grazie 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 a tutti.